Sì, abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione di euro per un progetto presentato su fondi PNRR per la realizzazione di un asilo nido di ultima generazione, quindi ecosostenibile all'avanguarda in un'area molto vicino alle scuole Don Alfonso De Caro di Lancusi. Questo ci permetterà appunto di dare un ulteriore servizio alla nostra comunità, già sono attivi due asili nido qui sul nostro territorio, uno in collaborazione con l'Università e un altro in collaborazione con il Consorzio, un asilo nido come ho detto all'avanguardia di ultima generazione con metodi educativi innovativi e questo ci consentirà anche di riqualificare un'altra area degradata del nostro territorio, quella di via Starza, area ex prefabbricati. In questi anni abbiamo cercato di riqualificare tutte le aree degradate della nostra città, questa è una delle ultime e appunto la riqualificheremo realizzando anche un'opera importante per i nostri cittadini. Bene, Sindaco, continuiamo anche sul digitale, un altro filone importante di bandi a cui avete partecipato. Anche qui abbiamo ottenuto una serie di finanziamenti sempre su fondi PNRR per una serie di implementazioni dei servizi digitali all'interno del nostro comune. Innanzitutto la possibilità di mettere tutti i server e quindi collegamenti in iCloud, questo ci consentirà di eliminare i server e di avere quindi più sicurezza informatica per l'ente. Ma anche un'altra serie di interventi come lo speed digitale, questo consentirà di implementare il nostro sito e permetterà ai cittadini di accedere direttamente con lo speed anche sul sito del comune e quindi poter utilizzare tutti i servizi connessi direttamente con lo speed. Abbiamo partecipato proprio nei giorni scorsi a un altro bando pubblica amministrazione digitale 2026 che ci consentirà nel corso di 4 anni di implementare ulteriormente l'informatizzazione dell'ente, la digitalizzazione, l'archiviazione anche in formato digitale di una serie di documenti che in questo momento sono ancora cartacei. Questo ci consentirà di avere con un click da qua al 2026 una serie di vantaggi perché con un click ci consentirà di accedere a una serie di informazioni che prima era molto complicato avere o quantomeno ci voleva molto tempo. Questo è quello che stiamo mettendo in campo per l'informatizzazione che riteniamo un punto fondamentale per progredire sempre di più. Bene Sindaco, c'è una questione che riguarda la scuola di San Vincenzo. Sì, abbiamo avuto in questi giorni inizio scuola e anche nella fine dello scorso anno scolastico una problematica molto importante perché molti nostri ragazzi che frequentavano la scuola, il liceo di Mercato San Serio nella frazione San Vincenzo avevano difficoltà a raggiungere il liceo stesso perché gli autobus erano stati soppressi oppure non arrivavano negli orari consentiti. Abbiamo inviato una serie di missive a Bus Italia, alla regione per far sbloccare grazie anche all'aiuto dei genitori dei ragazzi che hanno fatto una petizione e finalmente siamo riusciti a sbloccare. Quindi sia il 10 consente allungherà il percorso non si fermerà solo all'ingresso di Mercato San Serio ma arriverà fino alla scuola ma anche i pullman del servizio urbano di Fisciano che paghiamo noi, che abbiamo con una quota aggiuntiva, abbiamo consentito di far passare su tutto il territorio un pullman che mette in collegamento a tutte le frazioni, uno di questi sia all'ingresso che all'uscita della scuola arriverà fino alla frazione di San Vincenzo. Nei giorni scorsi è partita, purtroppo c'è ancora qualche problema perché pullman arrivava un po' in ritardo quindi i ragazzi arrivavano in ritardo con la scuola, proprio stamattina abbiamo chiamato Bus Italia per far anticipare l'orario di passaggio del bus e quindi far arrivare in tempo i nostri ragazzi. Può sembrare è una sciocchezza ma oggi dobbiamo combattere anche appunto per far andare i nostri ragazzi a scuola, noi non ci tiriamo indietro tra enormi difficoltà ma cerchiamo di dare supporto su tutte le problematiche e le tematiche che ci vengono sottoposte. Chiudiamo con le assunzioni municipio. Sì, dal 23 agosto abbiamo approvato il bilancio 2022, quindi questo ci consente di avviare l'iter concorsuale, abbiamo avviato la mobilità obbligatoria che si è conclusa, quindi partirà il secondo step che è quello della mobilità volontaria e dell'utilizzo di gradatori che ci potrebbe consentire di implementare le risorse comunali. Poi lo step successivo sarà quello dei concorsi, ce ne saranno 23 tra mobilità obbligatoria, utilizzo di gradatoria e concorsi che metteremo in campo, 23 nuove assunzioni, siamo uno dei pochi comuni della provincia che in un colpo solo riesce a programmare 23 assunzioni perché per prevedere 23 assunzioni dobbiamo avere la relativa copertura in bilancio, quindi noi per il prossimo triennio ce l'abbiamo e l'abbiamo prevista, quindi un grande sforzo da parte di tutti per migliorare sempre di più il nostro comune. Bene Sindaco, grazie per il tempo che ci ha concesso, ci risentiamo nelle prossime settimane. Grazie a voi. Grazie a voi.